La storia che vi voglio raccontare oggi, che voglio condividere con voi, è la storia di una ragazza di origine francese che si chiamava Amélie, che è stata ricoverata presso la terapia intensiva dove io lavoravo fino al 2018. Questa storia risale proprio al 5 gennaio 2018 e la ricordo proprio come se fosse oggi. Quel mattino in terapia intensiva le attività si erano susseguite in modo caotico già dal mattino presto e durante la mattinata c'era stato un ricovero urgente, per cui alle ore 12 alcune attività erano ancora in arretrato. Amélie, che era una paziente affettuosamente diciamo così accudita da tutti noi, era stata estubata ad alcuni giorni e era quello che in gergo viene definito svezzamento dal respiratore artificiale. Pian piano raggiungeva la consapevolezza, quindi acquistava sempre più coscienza e interagiva con tutto il gruppo infermieristico e quindi con il mondo esterno, con i suoi parenti eccetera. Amélie è una ragazza che è rimasta nel cuore un po' di tutti e ancora oggi ne parliamo tutti insieme quando ci ritroviamo. Perché questo? Perché proprio quel giorno Amélie ricevette la visita di suo papà che dall'Equador era appena arrivato in Italia dopo che lei aveva avuto questa emorragia cerebrale a seguito della rottura di un vaso sanguigno e quindi quel giorno era molto emozionata sapendo che sarebbe arrivato il suo papà da molto lontano. All'ingresso dei parenti naturalmente tutti noi eravamo anche un po' così in attesa di vedere la reazione sia del genitore che della figlia. Quando il papà si avvicinò al letto insieme alla nonna naturalmente le emozioni erano tantissime e tutti si misero a piangere e Amélie che aveva già raggiunto un certo livello di coscienza aveva benissimo compreso che quello era il suo papà riconoscendo anche la voce e quindi si era emozionata tantissimo. Naturalmente lui le parlò inizialmente in francese poi anche in italiano e forse questo era stato un gesto anche carino nei nostri confronti e le disse tutto l'amore che provava nei suoi confronti anzi le chiese anche scusa per alcuni fatti che erano accaduti in passato che conoscevano insomma solo loro. Questo momento fu molto toccante. Terminata la visita Amélie ebbe un forte mal di testa e alcuni parametri così messi in evidenza dal monitor erano alterati per cui su indicazione del medico venne fatta una sedazione da prima superficiale e con l'aggravarsi delle condizioni di Amélie la sedazione divenne sempre più profonda. Insomma quel giorno Amélie ebbe una nuova emorragia cerebrale che possiamo definire definitiva proprio da emozione e questo per dire che quel giorno accadde un avvenimento se da una parte piacevole però segnò il destino di questa ragazza di 30 anni. Fece un angiotac d'urgenza, fece un elettrocardiogramma, un elettroencefalogramma e l'elettroencefalogramma dimostrò che non vi era più alcuna attività cerebrale e quindi il risponso fu la dichiarazione che era avvenuta la morte cerebrale e quindi con la morte cerebrale la morte dell'individuo. venne mantenuto ovviamente, venne rianimata, venne tenuto in vita il suo cuore, il suo respiro per parecchie ore e in quel momento venne attivata quella che è la commissione per l'espiando degli organi e per la donazione. Naturalmente il responsabile medico convocò me, l'infermiere di turno quel giorno e i parenti per parlare con loro per chiedere se erano disponibili alla donazione degli organi. Naturalmente si era fatto il pomeriggio e noi eravamo rimasti tutti lì per poter parlare con loro e poter condividere questo momento molto doloroso con tutta la famiglia. Naturalmente la famiglia disse che di questo argomento non avevano parlato data l'età di Amélie e non sapevano che cosa ne pensasse lei circa la donazione degli organi. Si dette loro del tempo per pensare come avviene in tutti i casi e mantenendo sempre in vita la persona, nel senso la funzione cardiaca e la funzione respiratoria. Il giorno dopo arrivando in servizio scoprimmo che sia il papà di Amélie sia il nonno e poi anche la nonna diedero il consenso all'espianto degli organi e quindi si mise in moto la macchina perché di macchina si tratta con tutte le equip chirurgiche del centro trappianti regionali di Torino e si procedette all'osservazione che si fa in questi casi per sei ore e poi durante la notte al prelievo degli organi. Amélie fu tolto dapprima al cuore i polmoni, poi il fegato, la cute, i reni, le corne. Insomma da questa ragazza tantissime persone, sette persone, ebbero la possibilità di rivivere. A distanza di mesi ci vennero da noi sia il papà, perché Amélie non aveva più la mamma, sia il papà che i nonni e ci raccontarono loro come avevano vissuto questa cosa, cioè noi li avevamo aiutati a prendere delle decisioni molto importanti soltanto con la nostra presenza e il nostro parlare di Amélie come era stata durante il ricovero in terapia intensiva. Ci ringraziano molto, anzi ci stupimo di questa cosa perché non è a uso insomma ringraziare dopo un avvenimento così tragico. La dottoressa responsabile per la nostra ASL dei trapianti ricevete anche una lettera molto commovente che ci lesse durante una riunione in riferimento proprio a questa donazione multiorgano.